Buongiorno Davido, buona settimana, buon lunedì, è un po' che non ci vediamo, non vi dico moltissimo oggi vi segnano solamente degli articoli interessanti se volete approfondire soprattutto se volete un po' aggiornamenti sulla questione di Reddit sì, ci torniamo sopra perché ci sono delle cose interessanti, degli aggiornamenti da dare però ve li segnano solo, non vi vado ad approfondire oggi iniziamo col dire che The Verge è naturalmente la testata che sta coprendo meglio questo come ho sempre detto, quindi continuerò a prendere spunto gli articoli di The Verge si parte con il rimarcare in questo articolo migliaia di subreddit continuano a rimanere dark, quindi a rimanere privati o ad avere limitazioni nei post degli utenti nonostante appunto la protesta inizialmente fosse stata prevista e annunciata per soltanto due giorni, 48 ore, lunedì e martedì di settimana scorsa invece molti come Pix, come Videos, Music, Science, eccetera rimangono, stanno rimanendo ancora inattivi e questo naturalmente potrebbe avere delle conseguenze insomma inattese sia per CEO e management di Reddit che anche per gli utenti stessi e tanto è vero che questa cosa sta infastidendo un po' il management che gli stessi hanno inviato una lettera, una nota ai moderatori di tutti questi subreddit dicendo, cercando di far emergere quelli che sono contrari a questa prolungata protesta e dicendo appunto in questa nota che potete leggere nell'articolo di The Verge che si intitola ecco la nota che Reddit ha mandato ai moderatori minacciandoli se non riaprono che in realtà non è proprio così è semplicemente una nota in cui Reddit chiede, dice se c'è qualcuno di voi, tra voi i moderatori, che non è d'accordo con i metodi del top mod cioè di quelli che gestiscono la comunità, il subreddit quindi non è d'accordo nel proseguire in questa protesta ecco, fatecelo sapere perché magari quei top mod noi li rimuoviamo e vi diamo a voi il controllo della comunità così potete rimetterla in moto questo sostanzialmente è il cuore di questa nota poi in realtà c'è stato un altro messaggio che è stato mandato ai moderatori in cui Reddit appunto dice qua segnala che nel codice di condotta insomma nell'agreement che i moderatori hanno firmato hanno accettato quando sono diventati moderatori c'è anche scritto che Reddit può prendere il controllo può riprendere il controllo di subreddit in qualunque momento perché la priorità per Reddit sono gli utenti non sono i subreddit, non sono le community questa nota poi è stata anche ripresa la potete trovare anche su MacRumors ma proseguo con un'intervista molto lunga molto dettagliata che è molto carina vi consiglio di leggerla ed è l'intervista al CEO di Reddit Steve Huffman che aveva anche fondato Reddit inizialmente quindi molti molti, vent'anni fa praticamente poi dopo era uscito poi era entrato qualche anno fa insomma adesso è l'attuale CEO di Reddit e qui c'è una lunga intervista proprio con The Verge con un intervistatore che va a chiedergli conto di questi cambiamenti di questo scarso preavviso della deadline del primo luglio delle chiacchiere, delle discussioni con Apollo, Reef e gli altri creatori di app di terze parti e in pratica la cosa che emerge è che la decisione di Huffman e del board di Reddit è inamovibile non verrà cambiata più volte viene detto questa è una decisione di business l'abbiamo presa basta, non la cambiamo nonostante le proteste nonostante le app di terze parti nonostante le community questa decisione e non la cambiamo e la short notice diciamo quindi lo scarso preavviso non è un problema secondo Huffman secondo il board perché qualunque data qualunque deadline avrebbe portato a queste discussioni c'era bisogno di scegliere una data è stata scelta il primo luglio potrebbe essere un'altra ma l'importante era definire una deadline non c'entra niente secondo loro è sempre non c'entra niente la quotazione in borsa non c'entrano niente altre questioni relative alle AI eccetera è semplicemente che il business ha deciso che quella di sceglierebbe stata la data e questa rimane vi consiglio comunque di leggere tutto perché fa delle considerazioni anche sulle spese che Reddit sostiene per tenere in piedi tutto il sito spese che a suo dire invece le app di terze parti non sosterrebbero guadagnando comunque dal contenuto che Reddit produce senza pagare fee a Reddit attualmente si riferisce naturalmente ad Apollo eccetera eccetera in coda a questa vi consiglio poi di attaccarci questo articolo in cui sempre facendo riferimento alla protesta delle community questo articolo parla di tre delle più grandi Reddit community che riaprono quindi escono dalla fase dark ma in un modo peculiare in un modo divertente cioè su rpx rgifs e rau o a-w-w non so come pronunciarlo non me lo so mai posto questo problema e comunque devono essere tutti questi post devono essere a proposito devono contenere qualcosa su John Oliver insomma sul comico inglese John Oliver e quindi in tutti questi sabretti troverete se voi andate su questi sabretti troverete immagini di John Oliver o post a proposito di John Oliver e il John Oliver è tipo questo vedete e John Oliver stesso ha twittato dopo aver saputo di questa divertente protesta che stanno facendo un ottimo lavoro non solo ha caricato ha messo il carico andando a postare un po' di sue immagini probabilmente dal suo archivio personale che adesso sto facendo passare in video per chi mi sta ascoltando in podcast per dare appunto per gettare benzina sul fuoco insomma per dare del carburante a questa portezza da cui si può andare a pescare insomma divertente interessante chiudo questa carrellata su Reddit con un post apparso sul sabreddit save third party apps naturalmente abbastanza esplicativo il titolo del sabreddit con questo post che appunto titola la app di Reddit l'app ufficiale di Reddit sul Google Play Store quindi l'app per Android recentemente ha un numero sospetto di recensioni da 5 stelle con una parola di review e questo è lo screenshot lo ingrandisco dove vedete ci sono un sacco di recensioni che hanno come body come testo solamente nice great excellent outstanding good e il totale della recensione è 5 stelle su 5 naturalmente quindi il massimo e sono tutte vedete 14 giugno 15 giugno poi insomma gli ultimi giorni e dice naturalmente questa cosa è un po' sospetta io mi limito a segnalare non vado a commentare perché non so quindi mi limito a segnalare questo post che poi è dato in trend è andato anche su Hacker News chiudiamo chiudiamo con con Reddit basta questo è stato un po' l'aggiornamento vado invece ad aggiornarvi su una cosa un pochino più tecnica che riguarda Intel un pochino più tecnica ma si parla sempre di mercato perché Intel se voi avete seguito un po' il mercato dei semiconduttori in generale dell'hardware degli ultimi mesi e anni in realtà avete visto che gli equilibri stanno cercando un attimino di spostarsi dall'est dall'oriente all'occidente in pratica le fabbriche oggi le fonderie dove si producono semiconduttori sono per la maggior parte in Oriente Taiwan in Corea eccetera adesso i governi e le aziende di Europa e Stati Uniti stanno cercando di riportare l'asse l'equilibrio verso occidente facendo come? aprendo fonderie sul territorio americano e sul territorio europeo anche con il contributo delle istituzioni infatti l'Europa con il European Chips Act appunto ha messo in campo parecchi milioni di euro miliardi di euro anche credo per andare a finanziare le grandi aziende le big tech che vogliono aprire fonderie sul territorio europeo e quindi ci sono un po' di notizie riguardo a questo che riguardano Intel si parla quindi su The Register di Intel che ha pianificato di investire 4,6 miliardi di dollari in Polonia per aprire una fonderia e tra l'altro si fa riferimento anche al fatto che ci sono già delle trattative in corso si cerca di fare un accordo con la Germania per costruire una fonderia una fonderia in Germania quindi c'è un po' un tentativo di creare una rete di fonderie anche in Europa quindi non si sa quanti dei fondi dell'European Chips Act entreranno a far parte di questi investimenti però insomma c'è del fermento si sta creando qualcosa anche a partire da questi investimenti vado proseguo ci sono altri investimenti di Intel di ben altra natura se si parla di 25 miliardi di dollari però in Israele e quindi a creazione di un'altra fonderia e un accordo con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in questo articolo sempre su The Register si fa appunto riferimento al fatto che Israele e Intel hanno già una relazione di lunga data e che questo sta portando appunto all'idea di creare altre fonderie appunto sul territorio israeliano sempre parte vedete di questo movimento verso occidente di fonderie catene di approvvigionamento montaggio eccetera sempre rimanendo in Intel sempre rimanendo sugli investimenti ma cambiando un po' lo scope sempre su The Register è apparso questo articolo in cui si parla di come Intel stia pensando di diventare un investitore un grosso investitore nella Ipo quindi nella offerta pubblica nella quotazione pubblica che sta per avvenire di ARM quindi ARM sapete l'azienda che disegna fa il design delle architetture degli appunto dei processori ARM con cui Intel già collabora ecco si parla di appunto di questa Ipo che dovrebbe avvenire appunto nella seconda metà di quest'anno già diversi investitori naturalmente tra cui Softbank che sarà uno dei più grandi ecco si parla di come Intel potrebbe o vorrebbe insomma entrare a far parte di questo pool di investitori quindi cacciare le monete anche in ARM e vediamo come andrà poi l'articolo va un po' a parlare nello specifico di che cos'è ARM quali sono già i rapporti che hanno con Intel e qualche bega legale che sta avendo con Qualcomm perché sapete che ARM possiede insomma i brevetti vende in Vicenza le sue architetture Qualcomm è una delle principali aziende che crea e sviluppa processori ARM per smartphone eccetera e quindi c'è una causa in corso insomma vi invito di leggerla se vi interessa in chiusura sempre riguardo a Intel è uscita questa notizia che riporta una rivoluzione nella nomenclatura dei processori Intel qui vi porto l'articolo di Ars Technica quindi dice appunto che ci sono nuove etichette quindi nuovi nomi per la prossima generazione del processo di processori Intel dell'architettura Intel cioè Meteor Lake questo sarà questo è il nome in codice o comunque il nome che il brand dà alla prossima generazione di CPU ecco Meteor Lake abbandona la classica classica ormai da qualche anno insomma nomenclatura dei processori sapete che erano Core i5 Core i7 i9 eccetera i3 anche bene la i viene abbandonata viene tolta e quindi ora i processori si chiameranno Core 3 Core 5 Core 7 Core 9 non solo ci sarà anche una versione ultra quindi con non si sa bene ancora in che modo ma saranno specifiche ancora maggiorate rispetto al top della gamma di un processore quindi la versione ultra avrà specifiche ancora più spinte la versione ultra non ci sarà sulla linea 3 quindi non avremo il Core Ultra 3 ma avremo Core Ultra 5 Ultra 7 Ultra 9 a proposito di Ultra 9 tra l'altro si pare si dice che non esisterà la base 9 ma solo l'Ultra 9 quindi avremo i3 senza Ultra poi 5 e 7 anche in versione Ultra e poi 9 solo in versione Ultra e questa è la strategia insomma un po' di branding di Intel i numeri rimarranno nella parte finale dell'indicazione del modello del processore però pare anche un po' ridotti rispetto ai tanti numeri che abbiamo oggi però rimarranno un po' ridotti quindi dovrebbero avere comunque il numero 14 alla fine come sigla e quindi potremmo avere insomma un processore che con questo nuovo branding si chiamerà per esempio Intel Core Ultra 7 con poi il numerino 14 eccetera questa è insomma la notizia questo articolo vi va un po' a spiegare bene che cosa sta succedendo e cosa sarà il futuro delle architetture Intel insomma nella prossima generazione di CPU e con questo direi che la possiamo chiudere non so se vi piace questo genere di recap veloce un po' un modello di notizia ma una rassegna stampa però potrebbe essere interessante per chi vuole un po' di spunti per poi andare ad approfondire fatemelo sapere altrimenti magari potrei le prossime volte andare a approfondire un pochino di più domani non ci vediamo però domani c'è Continuous Delivery un podcastone che potete trovare al pomeriggio in live dalle 4 anticipiamo un pochino e avremo un mega ospite perché avremo Gabriele Columbro che è il general manager di Linux Foundation Europe quindi sarà una mega puntata parleremo naturalmente di open source di comunità europea di accordi ma sarà molto figo lui è un personaggio veramente interessante e credo spero che sarà una chiacchierata molto interessante quindi io vi aspetto vi ringrazio per aver seguito fin qui e ci vediamo a un prossimo buongiornone ciao